Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di 10 principi che ci aiutano a prendere decisioni migliori. Spesso prendere decisioni può essere estremamente complicato, almeno lo è sempre stato per me. Vediamo sempre di corsa, andiamo col pilota automatico, è sempre più complicato trovare il tempo per fermarci a pensare e capire come agire nella nostra vita quotidiana. Però è altrettanto vero che senza input di qualità il nostro cervello non riuscirà a generare degli output altrettanto qualitativi. Quindi mi sono chiesto in passato come posso fare per migliorare la qualità delle decisioni che prendo. Per questo, da qualche tempo a questa parte, mi sono appassionato ai modelli mentali. Il concetto dei modelli mentali, secondo me, è molto potente perché ci aiuta a trovare delle scorciatoie per prendere decisioni migliori più in fretta. Ogni volta che ci troviamo davanti a opzioni differenti può essere estremamente complicato trovare il tempo di analizzare i pro e contro di ognuna. Ed è qui che entrano in gioco i modelli mentali. Se abbiamo delle scorciatoie, delle strutture, meccanismi all'interno della nostra testa che ci consentono di trovare più in fretta le soluzioni migliori anche la qualità dei nostri output aumenterà in maniera esponenziale. Ecco, in questo video mi voglio focalizzare proprio su questo sulla lista dei 10 principi che io personalmente applico più spesso nella mia vita quotidiana e spero possano essere utili anche a te. Se poi ti interessa approfondire troverai in descrizione a questo video il link alla lista completa dei 25 modelli mentali più utili a mio avviso. Io mi chiamo Simone e sono fondatore di Indie Productivity, ovvero il canale in cui ti trovi adesso. E all'interno di questi video molto spesso parlo di modelli mentali, di strategie di produttività, di strategie di gestione del tempo. Se ti interessano questi temi e sei appassionato di questi argomenti come me ti invito ad iscriverti e dare un'occhiata anche agli altri video di questo canale. Bene, partiamo con la lista. Principio numero 1. Giocare al rialzo su quello che già funziona. Questa è una di quelle cose che sembra così semplice da dire ma è spesso complicata da applicare. Molto spesso ci mettiamo molto tempo a capire quali sono le cose che funzionano all'interno dei progetti e delle attività che stiamo facendo. E nel momento in cui l'abbiamo trovata tendiamo a cercare nuove opportunità, a testare cose diverse, senza invece continuare a fare quello che già sta funzionando. Questo principio all'interno del mondo del marketing, che è l'area in cui lavoro io stesso, è conosciuto con il nome di double down. Vole a dire nel momento in cui troviamo qualcosa che funziona all'interno della nostra strategia di marketing, è opportuno fare double down, ovvero giocare al rialzo, continuare ad investire su ciò che già sta generando risultati. Quindi quando sarai indeciso ed indecisa sul cogliere delle nuove opportunità o meno, considera questo principio e invece che continuare a fare cose diverse, focalizzati su quello che già funziona. Secondo principio, trova il tuo 1%. Spesso ci sentiamo dire che ognuno di noi ha un talento, una capacità nascosta, una specie di superpotere. Siamo molto bravi a fare un qualcosa di specifico e dettagliato in un argomento di nicchia. Qual è il problema però? È che è molto complicato riuscire a capire dov'è il nostro 1%, qual è l'argomento in cui siamo così bravi o almeno più bravi della media? Per me questa è sempre stata la domanda più complessa a cui rispondere, proprio perché richiede un grado di consapevolezza molto superiore alla media. Il punto è che se riusciamo a capire dove siamo davvero competenti, riusciremo a aumentare esponenzialmente la qualità dei nostri risultati. Perché? Perché le cose che facciamo diventeranno improvvisamente molto più semplici e secondariamente riusciremo a ottenere risultati molto più in fretta degli altri o di tutti coloro che operano all'interno della stessa area, della stessa categoria. Se facciamo per esempio un parallelo con la vita professionale, se riusciamo a capire dove sta il nostro 1% di eccellenza, riusciremo anche a raggiungere risultati professionali e lavorativi molto più in fretta di qualcun altro, semplicemente perché abbiamo più passione, siamo più portati a fare quell'attività e saremo quindi in grado di ottenere dei risultati rilevanti in un periodo di tempo relativamente ristretto. Quindi come si applica questo principio? Prova a pensare anche tu in quale campo puoi giocare, quali sono i tuoi superpoteri, quale attività ti riescono più semplici e quali sono le aree in cui hai ottenuto risultati più importanti nel tuo recente passato. Terzo principio l'ho chiamato principio 90-10. Se ci guardiamo intorno nella società moderna, è chiaro come la maggior parte delle persone voglia raggiungere dei risultati immediati, anche quando sono molto complessi. Tutti si aspettano di trovare delle scorciatoie e dei trucchi per ottenere risultati fuori dal normale, facendo però il meno possibile. Ora, questo approccio molto raramente funziona ed è ovviamente fallimentare sul lungo termine. Però dall'altra parte è anche vero che nessuno vuole subire sconfitte e fallire ogni volta, perché ovviamente questo tende a portare ad una demotivazione e tende a portare alla passività piuttosto che alla proattività. Quindi come si risolve questo problema? Nel corso degli ultimi anni mi sono accorto che c'è una specie di trenno, una specie di rapporto tra il numero di sbagli che personalmente ho fatto in determinate aree, personali e professionali, e il numero di vittorie, tra virgolette. E questo rapporto tende ad essere 90-10. Su dieci tentativi che ho fatto, molto spesso nove si sono rivelati fallimenti o sbagli, mentre una cosa è andata bene. Essere consapevoli di questa razza, di questa proporzione tra sbagli e vittorie, ci alleggerisce dal punto di vista psicologico, perché se siamo consapevoli che per raggiungere un risultato dovremo fallire tante volte, sarà molto più semplice per noi continuare a farlo, invece che schiantarci contro un muro e fermarci molto prima. Un altro metodo che dal mio punto di vista si è rivelato piuttosto utile è pensare che nel momento in cui cerchiamo di fare delle cose nuove, i primi 100 tentativi neanche li dobbiamo contare. Cominciamo a contare il numero di fallimenti e di sbagli eventualmente soltanto dal tentativo numero 101. Questo, di nuovo, alleggerisce le aspettative che abbiamo e poniamo su noi stessi quando vogliamo imparare una cosa nuova, vogliamo raggiungere un risultato, portare a termine un progetto che è importante per noi. Avere questo principio in testa ci facilita di gran lunga il percorso, anzi, lo rende molto più divertente. Questo ovviamente non significa trovare delle scuse per continuare a sbagliare, quindi non impegnarci abbastanza, ma significa semplicemente accettare che il percorso non è immediato. Col tempo, con gli insegnamenti che otterremo da questa esperienza, poi riusciremo a migliorare questa proporzione, questa razio, e quindi riusciremo a diminuire la percentuale di sbagli che facciamo lungo questo percorso. Principio numero 4. L'ho chiamato gli anni d'oro. Una delle conseguenze più drammatiche, secondo me, dello stile di vita che abbiamo oggi consiste nel fatto che perdiamo contatto con la nostra esperienza passata, con chi eravamo prima di essere chi siamo noi adesso. In altre parole, perdiamo contatto con ciò che ci ha reso felici, ci ha dato della gioia, ci ha fatto sentire al nostro meglio nel nostro recente passato. Questo perché? Perché ci perdiamo in impegni, ci perdiamo in doveri che ci sono imposti da terze parti, e quindi in qualche modo ci allontaniamo da quello che siamo noi veramente. Ecco, questo principio si chiama gli anni d'oro proprio per questo motivo. Ci riporta ad un momento della nostra vita in cui ci siamo sentiti al nostro massimo, a quei momenti in cui ci siamo sentiti appagati, energici, motivati, pieni di iniziativa, pieni di idee. In altre parole, quelle condizioni che ci hanno consentito di esprimere il nostro meglio. Per me, per esempio, questo momento è molto chiaro. Parecchi anni fa, oramai purtroppo, ho partecipato al programma di studio Erasmus, che consente uno scambio di studenti tra università appartenenti a paesi differenti. Ecco, nel mio caso io ho avuto la possibilità di studiare in Spagna per un anno. Quell'anno per me è stato fondamentale, perché mi ha dato accesso a tutta una serie di esperienze che non avevo potuto vivere prima. E soprattutto mi ha fatto conoscere degli aspetti di me stesso di cui magari non ero neanche consapevole. L'esperienza che ho vissuto durante quei mesi è stata estremamente formativa e ha tirato fuori delle qualità, delle caratteristiche, semplicemente del mio carattere, di cui sono diventato consapevole durante quel periodo. E lo ricordo ancora come un periodo di libertà, di gioia, di apprendimento, di motivazione, di ispirazione e di iniziativa. Quindi ancora oggi, quando non mi sento al mio massimo, per motivi differenti, cerco di tornare indietro a quello stato d'animo, a quello stato emozionale, a quel contesto. E questo mi aiuta anche nel presente a fare del mio meglio. Principio numero 5. Implementa quello che impari. Questo è diventato quasi un cliché. Alla maggioranza di persone che parla di questo principio, molto spesso non lo mette in pratica, che è proprio il fulcro di questa idea. Le persone razionalizzano troppo e implementano troppo poco. Le persone parlano di fare delle cose, ma poi non le fanno. Questo fenomeno è conosciuto come illusione del risultato, ovvero quando le persone imparano delle cose nuove, hanno l'illusione di riuscire ad ottenere risultati migliori, in virtù delle informazioni che hanno appena acquisito. In realtà non funziona così, e io sono stato il primo colpevole. Ho consumato contenuti per anni ed anni, senza effettivamente mettere in pratica le nozioni che assorbivo. Ma la realtà è che i risultati migliori derivano soltanto dalla pratica. Quando le informazioni sono puro intrattenimento passivo, non portano da nessuna parte, soprattutto non hanno un output concreto. Soltanto mettendola in pratica, da una parte assorbiremo meglio le informazioni e le nozioni che stiamo apprendendo, e dall'altra soprattutto riusciremo a trasformarle in un output che ci è utile e ci consente di raggiungere un risultato migliore al lavoro o nella nostra vita personale. Quindi la prossima volta che stai studiando un nuovo argomento, stai guardando un nuovo video su YouTube, per esempio, prova a chiederti, mi sto soltanto perdendo nella teoria, nell'assorbire informazioni passivamente, o sto invece mettendo in pratica quello che ho imparato? Principio numero 6. Chiedi le cose almeno due volte. Questa è una di quelle cose complicatissime da fare, soprattutto per le persone che sono magari come me un po' più introverse. Ovvero, è molto semplice chiedere una cosa, ma è molto più complicato chiederle due volte, perché la percezione è che se continuiamo a fare la stessa domanda più di una volta, diventiamo invadenti, diventiamo troppo persistenti. La verità delle cose, me ne sono accorto anche personalmente nella mia vita professionale, è che le persone molto spesso si dimenticano, o magari perdono di vista la richiesta che abbiamo fatto in precedenza. Le persone sono molto più aperte ad aiutarci quando noi siamo molto più chiari e molto più decisi rispetto a ciò di cui abbiamo bisogno. Il motivo per cui chiedere le cose almeno due volte è molto più complicato è che ci troviamo davanti a un blocco. Un blocco che deriva dalla paura del rifiuto in generale e il blocco che deriva dal sentirsi dire di no proprio da quella persona, cosa che vogliamo a tutti i costi evitare. Se ci pensiamo bene, infatti, non chiedere ha solo svantaggi, mentre continuare a chiedere ha soltanto dei vantaggi positivi. Primo beneficio, alla peggio non cambia niente, nel senso che non otterremo nessuna risposta. Secondo beneficio, alla meglio cambia tutto invece, perché otterremo effettivamente il risultato che avevamo in mente all'inizio. Quindi, in sostanza, non abbiamo nulla da perdere. Provando ad applicare questo principio in un ambito concreto, quando siamo all'interno di un'organizzazione, abbiamo bisogno di un consiglio, di un feedback, del supporto, magari di un leader, o addirittura di un personaggio pubblico che non ha del tempo da dedicare necessariamente a noi, avere questo approccio aumenta esponenzialmente le possibilità di successo, e quindi la nostra possibilità di miglioramento e di maturazione. E inoltre ci fa riflettere meglio sui motivi per cui a volte non riceviamo dei feedback. Le persone non sono necessariamente scortesi o maleducate nei nostri confronti, spesso le persone banalmente si sono dimenticate, non avevano capito bene il nostro messaggio, o semplicemente non hanno avuto ancora tempo di controllarlo. Bene, siamo quasi alla fine di questa lista. Principio numero 7, espandere il territorio della nostra fortuna. Questo è uno dei principi che viene espresso più di frequente da Naval Ravikant. Io ho parlato già in qualche contenuto passato di questo principio. Nella maggior parte dei casi noi tendiamo ad applicare delle etichette alle persone. Questa persona è fortunata, questa persona è intelligente, questa persona è sfortunata. O ancora peggio, tendiamo ad applicarle a noi stessi. La verità è che queste etichette non funzionano. Sono anche queste delle scorciatoie mentali che utilizziamo per pigrizia. La verità è che la fortuna è uno di quegli elementi su cui, in parte, abbiamo il controllo. Tendiamo a considerarla come una di quelle cose completamente passive che ci accadono. In realtà ci sono degli strumenti che possiamo utilizzare per influenzarla attivamente. Il principio di Naval Ravikant dice proprio questo. Per espandere il territorio della nostra fortuna dobbiamo metterci nelle condizioni di essere fortunati. In altre parole, la fortuna si crea, non la riceviamo dall'alto. Quindi una grossa differenza tra chi decide di sedersi e aspettare passivamente che a un certo punto la fortuna passi dalla sua parte e chi invece attivamente continua a provare, continua a cogliere delle opportunità, continua a tenere i comportamenti necessari a ottenere il risultato o il successo a cui ambisce. Se aumentiamo il numero di tentativi, aumentiamo proporzionalmente anche la possibilità di essere fortunati a un certo punto. E quindi in questo senso il territorio della fortuna può essere espanso, mettendoci nelle condizioni giuste per essere più fortunati. Questo principio in realtà può essere applicato davvero a qualsiasi campo. Io, per esempio, l'ho applicato alle strategie di marketing su cui lavoro ogni singolo giorno o anche alla scrittura di articoli sul mio blog. Più aumenti il numero di azioni compiute, più imparerai cose nuove, più aumenterai le possibilità di essere fortunato che la sorte in qualche modo arrivi in tuo aiuto. Principio numero 8. Chiedi a qualcuno più in gamba di te. Questo è un altro di quei principi che sembra banale, ma secondo me non lo è affatto, perché richiede un atteggiamento estremamente proattivo e ci impone di buttarci al di fuori della nostra zona di comfort. Consiste nel richiedere consigli a persone che hanno già ottenuto dei risultati a cui noi aspiriamo. Come si fa però a chiedere consigli a qualcuno più bravo di noi? Se siamo abbastanza fortunati avremo già degli amici nella nostra cerchia che hanno raggiunto quei risultati e quindi sarà abbastanza semplice riuscire a tenere il loro supporto. Se non abbiamo questo privilegio però ci sono altri modi. Il miglior modo per farlo è stringere delle relazioni. Per stringere relazioni abbiamo due opportunità. O stringere relazioni offline e quindi cercare di incontrare fisicamente delle persone e scambiarci due chiacchiere per ottenere consigli utili, oppure stringere delle connessioni online. Uno dei privilegi, uno dei vantaggi di utilizzare i social media secondo me è proprio questo, che abbiamo virtualmente la possibilità di entrare in contatto con chiunque nel mondo, soprattutto delle persone che stimiamo di più. Nel migliore dei casi riusciremo quindi ad incontrare, organizzare un caffè, un evento, vedersi di persona con le persone a cui vogliamo chiedere consigli. Avendo più esperienza di noi potranno darci delle dritte e quindi accorciare il percorso verso il risultato che vogliamo ottenere. Se sono personaggi pubblici e quindi sono attivi sui social, e siamo a LinkedIn o Instagram, possiamo banalmente inviargli dei messaggi, fare delle richieste dirette, o comunque possiamo interagire con i contenuti che loro producono. Altrimenti se non riusciamo nel nostro intento, quello che ci può aiutare è semplicemente seguire il loro lavoro, seguire il loro operato. Seguendo le loro tracce potremo anche imparare noi stessi a ottenere risultati migliori dalle nostre iniziative. Siamo quasi alla fine. Principio numero 9. Indossa il tuo anello segreto. Quello che ho definito come anello segreto in realtà non è altro che un oggetto, un simbolo, un qualcosa che ci fa entrare in contatto diretto con la migliore espressione della nostra personalità. Ci sono degli esempi concreti, molto famosi, di personaggi che hanno indossato il loro anello segreto. Pensa per esempio ai maglioni a collo alto di Steve Jobs, o alla camicia da cowboy di Chris Sacca, o ancora alle t-shirt di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, o ai maglioni di Sergio Marchionne. Tutti questi simboli, che sono diventati simboli proprio perché questi personaggi li indossavano di frequente, erano utilizzati da una parte per risparmiare energia decisionale, nel senso che molto spesso loro indossavano questi indumenti per evitare di dover scegliere ogni giorno quali vestiti indossare. Dall'altra parte invece possiamo utilizzare quella stessa logica per entrare in contatto con la migliore versione di noi stessi. Io per esempio ho un anello che molto spesso indosso nel momento in cui voglio esprimere al meglio la mia personalità. Come sappiamo infatti spesso l'oggettistica, gli accessori e l'abbigliamento sono delle forme di espressioni molto potenti. Dunque pensa anche tu qual è il tuo anello segreto, qual è quell'oggetto, quella caratteristica che ti consente di esprimerti al tuo meglio. Siamo arrivati all'ultimo principio di questa lista, scomponi in pezzi più piccoli. Questo è probabilmente il principio, il modello mentale che a livello professionale mi ha aiutato in assoluto di più. Che cosa vuol dire scomporre in pezzi più piccoli? Nel momento in cui ci troviamo ad affrontare un problema lavorativo o personale che ci sembra insormontabile, la maniera più semplice per affrontarlo è scomporlo in pezzi più piccoli. Quando i problemi sono troppo grossi, le soluzioni sembrano impossibili. Quando spezzettiamo i problemi nelle loro unità micro, troveremo soluzioni più semplici a problemi più piccoli. Quando per esempio abbiamo un progetto molto grande da portare a termine, scomporlo in attività mensili, settimanali e giornalieri faciliterà di gran lunga la nostra pianificazione, perché sapremo esattamente che cosa fare ogni singolo giorno. Allo stesso modo possiamo applicare lo stesso principio e la stessa logica ai problemi. Se il problema è enorme, proviamo a scomporlo in problemi unitari, per trovare soluzioni più semplici e applicabili a quel singolo problema individuale. Bene, siamo arrivati alla fine di questa lista. Spero che questi principi ti siano stati utili, anzi ti invito a condividere nei commenti quali di questi principi stai già applicando o vorrai applicare alla tua vita personale. Fammelo sapere nei commenti, sono curioso di sapere che cosa ne pensi. Se sei appassionato anche tu di modelli mentali o di argomenti limitrofi al mondo della produttività e della gestione del tempo, ti invito ad iscriverti al canale in modo da ottenere tutti gli aggiornamenti futuri rispetto ai contenuti che pubblicherò. Inoltre se ti interessa approfondire il tema dei modelli mentali, ti lascio in descrizione il link alla playlist sul mio canale in cui potrai trovarne altri su questa falsa riga. Noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!